Pinocchio dentro il pescecane. Fatto sta che in un batter d'occhio si era tanto allontanato che non si vedeva quasi più, ossia si vedeva solamente sulla superficie del mare un puntolino nero che di tanto in tanto rezzava le gambe fuori dell'acqua e faceva capriole salti come un delfino in vena di buon umore. Intanto che Pinocchio nuotava l'avventura vide in mezzo al mare uno scoglio che pareva di marmo bianco e su in cima allo scoglio una bella caprettina che belava amorosamente e gli faceva segno di avvicinarsi. La cosa più singolare era questa, che la lana della caprettina invece di essere bianca o nera o pallata di due colori come quella delle altre capre, era invece turchina ma d'un color turchino sfolgorante che rammentava moltissimo i capelli della bella bambina. Lascio pensare a voi se il cuore del povero Pinocchio cominciò a battere più forte. Raddoppiando di forza e di energia si die a nuotare verso lo scoglio bianco ed era già a mezza strada quando, ecco, uscir fuori dall'acqua e venirgli incontro una orribile testa di mostro marino con la bocca spalancata come una voragine e tre filari di zanne che avrebbero fatto paura anche a vederle dipinte. E sapete chi era quel mostro marino? Quel mostro marino era né più né meno quel gigantesco pesce cane ricordato più volte in questa storia e che per le sue stragi e per la sua insaziabile voracità veniva soprannominato lattila dei pesci e dei pescatori. Immaginatevi lo spavento del povero Pinocchio alla vista del mostro. Cercò di scansarlo, di cambiare strada, cercò di fuggire ma quella immensa bocca spalancata gli veniva sempre incontro con la velocità di una saetta. Affrettati Pinocchio per carità gridava belando la bella caprettina e Pinocchio nuotava disperatamente con le braccia col petto con le gambe e coi piedi. Corri Pinocchio perché il mostro si avvicina e Pinocchio raccogliendo tutte le sue forze raddoppiava di lena nella corsa. Vada Pinocchio il mostro ti raggiunge eccolo eccolo affrettati per carità o sei perduto. E Pinocchio a notar più lesto che mai e via e via e via come andrebbe una palla di fucile e già era presso lo scoglio e già la caprettina spenzolandosi tutta sul mare. Gli porgiva le sue zampine davanti per aiutarlo a uscire dall'acqua. Ma oramai era tardi. Il mostro lo aveva raggiunto. Il mostro tirando il fiato a sé si beve il povero burattino come avrebbe bevuto un uovo di gallina e lo indiottì con tanta violenza e con tanta avidità che Pinocchio cascando giù in corpo al pesce cane batte un colpo così screanzato da restarne sbalordito per un quarto d'ora. Quando ritornò in sé da quello sbigottimento non sapeva raccapezzarsi nemmeno lui in che modo si fosse. Intorno a sé c'era da ogni parte un gran buio ma un buio così nero e profondo che gli pareva di essere entrato col capo in un calamaio pieno d'inchiostro. Stette in ascolto e non sentì nessun rumore. Solamente di tanto in tanto sentiva battersi nel viso alcune grandi buffate di vento. Da principio non sapeva intendere da dove quel vento uscisse ma poi capì che usciva dai polmoni del mostro perché bisogna sapere che il pesce cane soffriva moltissimo d'asma e quando respirava pariva proprio che tirasse la tramontana. Pinocchio sulle prime si ingegnò di farsi un poco di coraggio ma quando ebbe la prova e la riprova di trovarsi chiuso in corpo al mostro marino allora cominciò a piangere a strillare e piangendo diceva aiuto aiuto oh povero me non c'è nessuno che venga a salvarmi. Chi vuoi che ti salvi disgraziato? disse in quel buio una bocciaccia fessa di chitarra scordata. Chi è che parla così? domandò Pinocchio sentendosi gelare dallo spavento. Sono io sono un povero tonno ingiottito dal pesce cane insieme con te. E tu che pesce sei? Io non ho che vedere nulla coi pesci. Io sono un burattino. E allora se non sei un pesce perché ti sei fatto inghiottire dal mostro? Non sono io che mi son fatto inghiottire. Io è lui che mi ha inghiottito. Ed ora che cosa dobbiamo fare qui al buio? Rassegnarsi e aspettare che il pesce cane ci abbia digeriti tutte e due. Ma io non voglio essere digerito urlò Pinocchio ricominciando a piangere. Neppure io vorrei essere digerito soggiunse il tonno. Ma io sono abbastanza filosofo e mi consolo pensando che quando si nasce tonni c'è più dignità a morire sott'acqua che sott'olio. In scioccarie gridò Pinocchio. La mia è un'opinione replicò il tonno e le opinioni come dicono i tonni politici vanno rispettate. Insomma io voglio andarmene di qui. Io voglio fuggire. Fuggi se ti riesce. È molto grosso questo pesce cane che ci ha inghiottiti? Domandò il burattino. Figurate che il suo corpo è più lungo di un chilometro senza contare la coda. Nel tempo che facevano questa conversazione al buio parve a Pinocchio di veder lontano lontano una specie di chiarure. Che cosa sarà mai quel lumicino lontano lontano? Disse Pinocchio. Sarà qualche nostro compagno di sventura che aspetterà come noi il momento di esser digerito. Voglio andare a trovarlo. Non potrebbe darsi il caso che fosse qualche vecchio pesce capace di insegnarmi la strada per fuggire? Io te l'auguro di cuore caro burattino. Addio tonno. Addio burattino. È buona fortuna. Dove ci rivedremo? Che lo sa. È meglio non pensarci neppure. Pinocchio appena che ebbe detto addio al suo buon amico tonno si mosse brancolando in mezzo a quel buio e cominciò a camminare a tastoni dentro il corpo del pesce cane avviandosi un passo dietro l'altro verso quel piccolo chiarore che vedeva baluginare lontano lontano. E nel camminare sentì che i suoi piedi sguazzavano in una pozzanghera d'acqua grassa e sdrucciolona e quell'acqua sapeva di un odore così acuto di pesce fritto che gli pareva di essere a mezza quaresima. E più andava avanti e più il chiarore si faceva rilucente e distinto. Finché cammina cammina alla fine arrivò. E quando fu arrivato che cosa trovò? Ve lo do a indovinare in mille. Trovò una piccola tavola apparecchiata con sopra una candela accesa infilata in una bottiglia di cristallo verde e seduto a tavola un vecchiettino tutto bianco come se fosse di neve o di panna montata il quale se ne stava lì biascicando alcuni pesciolini vivi ma tanto vivi che alle volte mentre li mangiava gli scappavano perfino di bocca. A quella vista il povero Pinocchio ebbe un'allegrezza così grande così inaspettata che ci mancò un ette non cadesse in delirio. Voleva ridere voleva piangere voleva dire un monte di cose e invece mugolava confusamente e balbettava delle parole tronche sconclusionate. Finalmente gli riuscì di cacciar fuori un grido di gioia e spalancando le braccia e gettandosi al collo del vecchietto cominciò a urlare oh babbino mio finalmente vi ho ritrovato ora poi non vi lascio più mai più mai più dunque gli occhi mi dicono il vero replicò il vecchietto stropicciandosi gli occhi dunque tu sei proprio il mi caro Pinocchio. Sì sì sono io proprio io e voi mi avete di già perdonato non è vero? Oh babbino mio come siete buono e pensare che io invece oh ma se sapeste quante disgrazie mi son piovute sul capo e quante cose mi sono andate per traverso. Figuratevi che il giorno che voi povero babbino col vendere la vostra casacca mi compraste l'abbecedario per andare a scuola? Io scappai a vedere i burattini e il burattinaio mi voleva mettere sul fuoco perché gli cocessi il montone arrosto che fu quello che poi mi dette cinque monete d'oro perché le portassi a voi ma io trovai la volpe il gatto che mi condussero all'osteria del gambero rosso dove mangiarono come lupi e partito solo di notte incontrai gli assassini che mi messero a corrermi dietro e io via e loro dietro e io via e loro sempre dietro e io via finché mi impiccarono a un ramo della quercia grande dove che la bella bambina dai capelli turchini mi mandò a prendere con una carrozzina e i medici quando mi ebbero visitato dissero subito se non è morto e segno che è sempre vivo e allora mi scappò detto una bugia e il naso cominciò a crescermi e non mi passava più dalla porta di camera motivo per cui andai con la volpe e col gatto a sotterrare le quattro monete d'oro che una l'avevo spesa all'osteria e il pappagallo si messe a ridere e viceversa di duemila monete non trovai più nulla la quale il giudice quando seppe che ero stato derubato mi fece subito mettere in prigione per dar una soddisfazione ai ladri di dove col venir via vidi un bel grappolo d'uva in un campo che rimasi preso la tagliola e il contadino di santa ragione mi messe il collare da cane perché facessi la guardia al pollaio che riconobbe la mia innocenza e mi lasciò andare e il serpente con la coda che gli fumava cominciò a ridere e gli si strappò una vena sul petto e così ritornai alla casa della bella bambina che era morta e il colombo vedendo che piangevo mi disse ho visto il tuo babbo che si fabbricava una barchettina per venirti a cercare e io gli dissi oh se avessi l'ali anch'io e lui mi disse vuoi venire dal tuo babbo e io gli dissi magari ma chi mi ci porta e lui mi disse te ci porto io e io gli dissi come e lui mi disse montami sulla grappa e così abbiamo volato tutta la notte e poi la mattina tutti i pescatori che guardavano verso il mare mi dissero c'è un povero uomo in una barchetta che sta per affogare e io da lontano vi riconobbi subito perché me lo diceva il core e vi feci cenno di tornare alla spiaggia ti riconobbi anch'io disse geppetto e sarei volentieri tornato alla spiaggia ma come fare il mare era grosso e un cavallone ma rovesciò la barchetta allora un orribile pesce cane che era lì vicino appena mebbe visto nell'acqua corse subito verso di me e tirata fuori la lingua mi prese pari pari e mi inghiottì come un tortellino di bologna e quant'è che siete chiuso qui dentro domandò pinocchio da quel giorno in poi saranno ormai due anni due anni pinocchio mio che mi son parsi due secoli e come avete fatto a campare e dove avete trovata la candela e i fiammiferi per accenderla chi ve li ha dati ora ti racconterò tutto devi dunque sapere che quella medesima burrasca che rovesciò la mia barchetta fece anche affondare un bastimento mercantile i marinai si salvarono tutti ma il bastimento colò a fondo e il solito pesce cane che quel giorno aveva un appetito eccellente dopo aver inghiottito me inghiotti anche il bastimento come lo inghiotti tutto in un boccone domandò pinocchio maravigliato tutto in un boccone e risputò solamente l'albero maestro perché gli era rimasto fra i denti come una lisca per mia gran fortuna quel bastimento era carico di carne conservata in cassette di stagno di biscotto ossia di pane abbrustolito di bottiglie di vino d'uva secca di cacio di caffè di zucchero di candele e ste aliche di scatole di fiammiferi di cera con tutta questa grazia di dio ho potuto campare due anni ma oggi sono gli ultimi sgoccioli oggi nella dispensa non c'è più nulla e questa candela che vedi accesa è l'ultima candela che mi sia rimasta e dopo e dopo caro mio rimarremo tutte e due al buio allora babbino mio disse pinocchio non c'è tempo da perdere bisogna pensare subito a fuggire a fuggire e come scappando dalla bocca del pesce cane e gettandosi a nuoto in mare tu parli bene ma io caro pinocchio non so nuotare che importa voi mi monterete a cavalluccio sulle spalle e io che sono un buon nuotatore vi porterò sano e salvo fino alla spiaggia illusioni ragazzo mio replicò geppetto scotendo il capo e sorridendo malinconicamente ti pare gli possibile che un burattino alto appena un metro come sei tu possa aver tanta forza da portarmi a nuoto sulle spalle provatevi e vedrete a ogni modo se sarà scritto in cielo che dobbiamo morire avremo almeno la gran consolazione di morire abbracciati insieme e senza dir altro pinocchio prese in mano la candela e andando avanti per far lume disse al suo babbo venite dietro di me e non abbiate paura e così camminarono un bel pezzo e traversarono tutto il corpo e tutto lo stomaco del pesce cane ma giunti che furono al punto dove cominciava la gran gola del mostro pensarono bene di fermarsi per dare un'occhiata e cogliere il momento opportuno alla fuga ora bisogna sapere che il pesce cane essendo molto vecchio e soffrendo d'asma e di palpitazione di cuore era costretto a dormire a bocca aperta per cui pinocchio affacciandosi al principio della gola e guardando in su poter vedere al di fuori di quell'enorme bocca spalancata un bel pezzo di cielo stellato e un bellissimo lume di luna questo è il vero momento di scappare bisbigliò allora voltandosi al suo babbo il pesce cane dorme come un ghiro il mare è tranquillo e ci si vede come di giorno venite dunque papino dietro a me e fra poco saremo salvi detto fatto salirono su per la gola del mostro marino e arrivati in quell'immensa bocca cominciarono a camminare in punta di piedi sulla lingua una lingua così larga e lunga che pariva il viottolone di un giardino e già stavano lì lì per fare il gran salto e per gettarsi a nuoto nel mare quando sul più bello il pesce cane starnutì e nello starnutire detto uno scossone così violento che pinocchio e geppetto si trovarono rimbalzati all'indietro e scaraventati nuovamente in fondo allo stomaco del mostro nel grandurto della caduta la candela si spense e padre figliuolo rimasero al buio e ora domandò pinocchio facendosi serio ora ragazzo mio siamo belle perduti perché perduti datemi la mano babbino badate di non sdrucciolare dove mi conduci dobbiamo ritentare la fuga venite con me non abbiate paura ciò detto pinocchio prese il suo babbo per la mano e camminando sempre in punta di piedi risalirono insieme su per la gola del mostro poi traversarono tutta la lingua e scavalcarono i tre filari di denti prima però di fare il gran salto il burattino disse al suo babbo montatemi a cavalluccio sulle spalle e abbracciatemi forte forte al resto ci penso io appena geppetto si fu accomodato per bene sulle spalle del figliuolo pinocchio sicurissimo del fatto suo si gettò nell'acqua e cominciò a nuotare il mare era tranquillo come un olio la luna splendeva in tutto il suo chiarore e il pesce cane seguitava a dormire di un sonno così profondo che non avrebbe svegliato nemmeno una cannonata mentre pinocchio nuotava la svelta per raggiungere la spiaggia si accorse che il suo babbo il quale gli stava a cavalluccio sulle spalle e aveva le gambe in mezze nell'acqua tremava fitto fitto come se al pover uomo gli battesse la febbre terzana tremava di freddo di paura chi lo sa forse un po' dell'uno e un po' dell'altro ma pinocchio credendo che quel tremito fosse di paura gli disse per confortarlo coraggio babbo fra pochi minuti arriveremo a terra e saremo salvi ma dov'è questa spiaggia benedetta domandò il vecchietto diventando sempre più inquieto e appuntando gli occhi come fanno i sarti quando infilano lago eccomi qui che guardo da tutte le parti e non vedo altro che cielo e mare ma io vedo anche la spiaggia disse il burattino per vostra regola io sono come i gatti ci vedo meglio di notte che di giorno il povero pinocchio faceva finta di essere di buon umore ma invece invece cominciava a scoraggiarsi le forze gli scemavano il suo respiro diventava grosso e affannoso insomma non ne poteva più la spiaggia era sempre lontana nuotò finché ebbe fiato poi si voltò col capo verso geppetto e disse con parole interrotte papo mio aiutatemi perché io muoio e il padre figliuolo erano oramai sul punto di affogare quando udirono una voce di chitarra scordata che disse chi è che muore sono io e il mio povero babbo questa voce la riconosco tu sei pinocchio preciso e tu io sono il tonno e il tuo compagno di prigionia in corpo al pesce cane e come hai fatto a scappare ho imitato il tuo esempio tu sei quello che mi ha insegnato la strada e dopo te sono fuggito anch'io tonno mio tu capiti proprio a tempo ti prego per l'amor che porti ai tonnini tuoi figliuoli aiutaci o siamo perduti volentieri e con tutto il cuore attaccatevi dunque tutte e due alla mia coda e lasciatevi guidare in quattro minuti vi condurrò alla riva geppetto e pinocchio come potete immaginarvelo accettarono subito l'invito ma invece di attaccarsi alla coda giudicarono più comodo di mettersi addirittura a sedere sulla groppa del tonno siamo troppo pesi gli domandò pinocchio pesi neanche per ombra mi par di avere addosso due gusci di conchiglia rispose il tonno il quale era di una corporatura così grossa e robusta da pareri un vitello di due anni giunti alla riva pinocchio saltò a terra il primo per aiutare il suo babbo a fare altrettanto poi si voltò al tonno e con voce commossa gli disse amico mio tu hai salvato il mio babbo dunque non ho parole per ringraziarti abbastanza permetti almeno che ti dia un bacio in segno di riconoscenza eterna il tonno cacciò il muso fuori dall'acqua e pinocchio piegandosi quei ginocchi a terra gli posò un affettuosissimo bacio sulla bocca a questo tratto di spontanea e vivissima tenerezza il povero tonno che non c'era vezzo si sentì talmente commosso che vergognandosi a farsi veder piangere come un bambino recacciò il capo sott'acqua e sparì intanto s'era fatto giorno